A tutta l'area di diventare un maxiprocesso, forse senza precedenti, quello che si è aperto in mattinata in Tribunale a Treviso con la prima delle udienze preliminari sul filone bis relativo al crack Veneto Banca, stavolta l'accusa è quella di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e vede sul banco degli accusati, oltre all'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli, anche altri funzionari ed ex responsabili apicali del gruppo. Oltre 2000 i soggetti che si stanno costituendo e che si costituiranno a breve parte civile stando a una prima stima, tra loro non ci sarà il comune di Montebelluna che pure aveva valutato l'ipotesi accanto ai suoi legali, le motivazioni sono due, una giuridica, l'altra etica. La prima è che deve esserci un nesso diretto di causa-effetto di danno, ecco. La seconda, che è quella più importante, è il fatto che paradossalmente se il comune si costituisse parte civile e venisse riconosciuto come parte lesa poi andrebbe a derodere i risarcimenti che invece devono andare a chi veramente è stato truffato. Non è il comune, ma sono i risparmiatori. Per il primo cittadino quindi va evitato l'effetto boomerang anche perché le ricadute sociali di quel crack sono ancora ben visibili sul territorio montebellunese, il più colpito inevitabilmente dal crollo della sua storica banca. Io credo che il disagio sia purtroppo diffuso, sicuramente molto è stato provocato da questa tragedia che ha colpito non solo il nostro territorio ma tutta la nostra regione oltre. Si somma comunque ad una situazione di disagio provocata anche da questa pandemia. Tutte considerazioni che comunque entreranno in questo secondo filone a una settimana esatta dalla condanna a quattro anni di reclusione a Vincenzo Consoli per false comunicazioni e falso improspetto dai reati contro la vigilanza. Ora i giudici si concentreranno prevalentemente su quelli contro il patrimonio personale, quindi la carne viva dello scandalo che ha travolto migliaia di famiglie e un intero territorio.